Una scuola per quelli... Cos'era cos'era? C'era un pochettino di pesce piccoli perché camminavano assieme e avevano fanfare sono quelle regate nere, scure e questi pesci mangiano la carne umana pure io non ho mangiato mai nella mia vita però non si fanno grandi e grandi pesce si è stato sempre così a mezzo chilo, sette minuti e allora abbiamo legato questo pesce fuori dalla barca e abbiamo salvato tutte le reti non è come sembra di fare una panchina il pesce già era morto, era soffocato come la balena che hanno visto le soledone salvato il capodoglio e allora mio papà dice a quei tempi però stiamo parlando sai quanto? di 58 anni fa capito? quindi mille lire erano proprio mille anni hai capito? sono da Rosaria che ricchi sia e poi è mai più raro? no mi ha portato questo pesce al mercato ittico per vendere ma che ha pescato? viene anche arrestato perché questi pesci non si pescano ma che lei che io l'ho andato a cercare? no 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 no